Pallone verticale, la mette in area, l'anticipo del difensore, corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore, lo spazzano via il pallone, provano ad andare Anzaldi Punta l'area, ferma l'azione d'attacco degli avversari, nessun problema per la difesa che recupera Da questa sfida uscirà la vincitrice della Coppa Internazionale Europea, è solo l'ennesimo trafio di preparazione secondo te, Lemina, grande parata, grande riflesso, super qui il portiere E sarà calcio d'angolo, si ripartirà con una rimessa dal fondo Val di Fiori Oriol Romeo Long Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo Occhio cerca l'area di rigore Palla nuovamente in possesso Sventa qui la minaccia Lemina L'arbitro non ha visto il pallo in questa circostanza Lascia correre Alla palla del vantaggio Long Sblocca dunque il risultato I tifosi sugli spalti sono impazziti di gioia per questo gol Cioè pregustano la Coppa anche se c'è tempo per festeggiare Hanno saputo concretizzare le numerose occasioni da gol con questa nette Ho ancora visto le statistiche riguardanti i tiri in po' più rigi ma così a occhio Hanno creato molte più occasioni dei loro aggassari Mentre sulla carta ci si attendeva onestamente un certo equilibrio Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0 Occhio al suo movimento Fanno girare benissimo il pallone La chiude molto bene Junuzovic Long E il pallone se ne va via Val di Fiori Baselli Si avvicina all'area C'è un buon anticipo Belotti Ansaldi Baselli C'è spazio per andare Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto E il portiere recupera il pallone Quarto uomo esibisce la lavagna Tre minuti di recupero Warprose Traversone in area Mario Romeo Portiere che blocca il tiro Bravo qui E finisce qui il primo Questa sostituzione potrebbe dare la scossa necessaria per cercare il gol del pareggio Pier Stefano inizia il secondo tempo della finale della Coppa Internazionale Europea Sì, fra poco sapremo che alzerà il trofeo Bertrand Rimessa con le mani Decisiva la deviazione Hanno spezzato bene la trama qui L'arbitro ferma il gioco per verificare ovviamente l'entità dell'infortunio L'ha fatto bene qui a intervenire Palla due dunque Con l'arbitro che rimetterà il pallone in mezzo per riprendere il gioco E vedremo se ci sarà del fair play in campo e se verrà restituita la squadra avversaria Oriol Romeo Van Dijk Junozovic Passaggio intercettato C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out Acqua Nyang Long C'è spazio davanti a sé Bravi qui a bloccare tutto Buono l'appoggio Baselli Si preparano a cambiare qualcosa alla prossima interruzione Credo che questo sia proprio il momento giusto Warpros Barragna metri verso l'area Gran palla dentro Acqua Grande intervento del portiere Pallone che finisce in acqua Difensore blocca bene il cross Palla che esce Touche Rimessa laterale Oriol Romeo Buono il recupero Possono ricominciare Ci sono metri a disposizione Cerca la porta Attaccante che qui ha sprecato una buonissima chance in contropiede Concludendo abbondantemente fuori Non era facile mantenere la lucidità Dopo aver corso tutti quei metri Palla al piede Che fisico Manovrano elegantemente Prova a calciare Nulla da fare Era una buona opportunità per pareggiare Avrà modo di riprovarci Non è uno che si abbatte facilmente Long Occhio cerca l'area di rigore Buono il tocco dentro Pallone che finisce in fallo laterale Ecco la rimessa veloce Hanno cercato l'effetto sorpresa Si avvicina all'area Prova Paselli Chance per loro su questo corner Sono sotto di un gol Devono approfittarne se vogliono recuperare Occhio al tiro Purtissimo Era una bella occasione questa per il pareggio Purtissimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iago Falke. C'è spazio per andare. Controllano molto bene il possesso del pallone. Bene la difesa su questo cross. Gabianini. Sembra tutto pronto per il cambio. Aspettano che il gioco venga interrotto. Ha spazio per tirare. E con questo gol sono di nuovo in parità. Un gol fondamentale, Piera. Prima di discussione questa finale di Coppa. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol dell'1-1. Bertrand. Occhio al suo movimento. Occhio al traversone. 600 secondi da giocare ancora. Acqua. Li Aic. Palla vagante adesso. Occhio al suo movimento. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Ancora otto minuti prima della fine della gara. Balla vagante. Grande giocata. World Pros conquistano un buon pallone al centrocampo. Baragna metri. Ci siamo sbagliati qui. Junozovic. Assuma dunque l'azione d'attacco. Iago Falchè. Prova ad andare. Rivediamo la conclusione dell'attaccante. Qualunque cosa volesse fare gli è riuscita davvero male Stefano. Nessun problema qui per il potiere. Palla che è terminata abbondantemente sul fondo. Poteva fare meglio dai. Iago Falchè. Non si accontentano il pareggio. Adesso vogliono vincere la partita. Ci saranno tre minuti di recupero, Pier. Ottimo recupero del pallone. Long. Baragna metri verso l'area. Prova in porta. Grande intervento del portiere. Calcio d'angolo che può essere un momento chiave della partita. La mette in mezzo. Ottimo intervento del difensore. Gran pa... Attenzione al tiro. C'è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Fase finale della gara. Occhio a questo calcio d'angolo. È la fine dei tempi supplementari. Primo rigore importantissimo dal punto di vista psicologico. Sirico. Lice di no. Tutta l'attenzione sul volto di questo giocatore. Momento chiaro. Stradinaria parata dal portiere. È rimasto concentrato fino all'ultimo. Bravo. Si avvicina al dischetto. Grandissima responsabile. Palla da una parte. Portiere dall'altra. C'è il gol. Grande successo. Nessuna esitazione. E sbaglia il calcio di rigore. Oh là là che figuraggio. Questa volta è insagerato troppo. Va a sistemare il pallone. E c'è il palo. Fuori. Incredibile. Palla sul palo. Ha interrotto la rincorsa per sbilanciare il portiere. Non è passato. I pensieri, i turbamenti. Forse anche non sbaglia. Non c'è domani. Deve segnare. Non vorrei davvero essere nei suoi panni. Grande pressione. Palla in rete. Senza esitazione. Sentenza. Bravissima. È il momento della verità. Se segna, arriva il gol. Che segna il finale di partita. Grande sicurezza e precisione. Allora, l'esplosione di gioia di giocatori e tifosi per la vittoria. La Coppa Internazionale Europea ha incoronato la squadra vincitrice. Davvero un ottimo inizio di stagione per loro. Questi Pierluigi. La Coppa Internazionale Europea